Saranno celebrati domani mattina le 11 funerali della piccola Maria. La salma è stata liberata al termine dell'autopsia durante la quale non è stato riscontrato alcun segno sul corpo della piccolina che possa fare ipotizzare che abbia subito maltrattamenti. L'esame autoptico è però solo il primo tassello per definire le cause del decesso della bambina di soli 4 anni. Il medico legale Giovanni Zotti dovrà attendere l'esame istologico, visionare le cartelle ringhe del Santo Bono e la documentazione dell'ospedale di Castellammare dove è nata la bimba. La piccola Maria era affetta da una malattia congenita per la quale il Tribunale dei Minori a fine giugno aveva nominato un curatore speciale per il collocamento e una struttura sanitaria adeguata alle sue patologie in modo da poterle garantire terapie riabilitative di cui necessitava. Il quadro clinico complesso e l'ambiente familiare è complicato, hanno però spinto le procure di Nole e Avellino ad avviare l'indagine per vederci chiaro. Intanto i due comuni di Samiano e Mugnano del Cardinale attendono di poter dare un ultimo saluto alla piccola Maria.